Il carro che presento quest'anno si intitola Il Sognatore. Il carro racconta, è un grande, raffigura un grandissimo Don Quixote, il quale rappresenta proprio il Sognatore, rappresenta tutti noi, tutti noi che comunque sogniamo di tornare alla vita normale, questo è il senso del carro. A un certo punto della coreografia la figura si accascerà indietro, cadrà indietro e a risollevarla sarà tutto il popolo, tutti noi, sia i ragazzi della coreografia, le maschere e poi anche la partecipazione della gente che sarà a vedere i corsi mascherati. Sì, è un messaggio proprio di tornare alla vita normale, che è quello che tutti sogniamo dopo due anni di fatica.